Buongiorno, mattino 6 di questo venerdere. Buongiorno, mattino 6 di questo venerdì 15 settembre 2017. La nostra redazione vi tiene compagnia in queste prime ore della giornata e lo facciamo come sempre sfogliando le pagine dei quotidiani, le prime nazionali e poi andando anche all'interno delle testate locali e rivedendo anche i servizi dell'edizione di ieri del TG6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi partendo dalle quattro edizioni del centro. Siamo all'edizione di Pescara. Ecco l'apertura. Gli sfollati no alle case fuori città. Pescara, le famiglie di Rancitelli rinunciano a 10 abitazioni perché sono in provincia. Poi un paio di richiami sotto la testata di fatti nazionali per la politica. Gentiloni faremo lo ius soli, Alfano non daremo la fiducia, scontro nella maggioranza. Per la cronaca l'assassino accusa Noemi voleva uccidere la mia famiglia, fidanzatina massacrata a specchia nel Salento. E poi vediamo anche la fotonotizia comune alle quattro edizioni del centro. Rapporto di 30 pagine del servizio foreste ad Alfonso. Regione, ecco il dossier riservato che ha bloccato il business del rimboschimento. Di spalla l'affare Piscine, manager e politici, ecco chi guida le naiedi. In basso la cronaca a Pescara, cocaina sotto al letto arrestata. Montesivano, odio razziale, indagato Forconi. E poi ancora in basso altri richiami, credito Ubi Carichietti, passo avanti nella fusione. Consumatori, in Abruzzo l'inflazione costa 660 euro l'anno. E poi concerto a Chietti, l'ex chitarrista di Vasco, suono per il signore. In basso a piedi pagina il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Ridiamo alle parole il valore delle cose. Vediamo ora l'edizione di L'Aquila Vezzano Sulmona del centro. Questa l'apertura vuole uccidere la moglie col macete. A Sulmona arrestato un 43enne dopo anni di violenze e maltrattamenti in famiglia. Sempre nell'edizione aquilana leggiamo nel capoluogo studenti come sardine al bus per andare a scuola. E sempre all'Aquila per la politica Lelio De Santis, l'altra faccia dell'opposizione. Ad Avezzano, carrozzella negata a malato di sclerosi. Avanti con l'altra edizione, la prossima edizione, quella di Teramo, che andiamo a vedere. L'apertura è dedicata al sindaco Maurizio Brucchi. Il resto a fare il sindaco, questo ha dichiarato il primo cittadino. Niente dimissioni per candidarsi in Parlamento. L'opposizione ribatte, non aveva il posto sicuro. Andiamo a vedere di spalla a Cellino Attanasio. Chiude lo stabilimento ITV, più di 90 licenziamenti. Ancora a Teramo, teatro di fida all'ACS, spazio alla Riccitelli. Roseto, crisi infinita in otto mesi, chiusi 20 negozi. E poi ancora l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. L'apertura parte la ZTL da lunedì. Le multe a Chieti, telecamere in via Ravizza e in via De Lollis. Sperimentazione per un mese. Per la cronaca a Vasto, rogo doloso, giostra bruciata di notte e caccia al piromane. E poi ancora a Lanciano, come vediamo, scelta l'Università telematica. A Chieti, barista morto, lo scalo fermo per l'addio. Vediamo ora la prima pagina del messaggero Abruzzo. Il titolo d'apertura, il commercio frena la ripresa. Posti di lavoro, l'industria cresce, ma negozi e piccole imprese perdono il 14%. La CNA e la CIS ribattono all'ottimismo della regione. Vietato farsi troppe illusioni. Sotto la testata, Chieti, le bacchettate del sindaco di Primio ai dipendenti. Fannulloni a Sulmona, minaccia di morte con un macete, la moglie che lo ha lasciato. Per lo sport, Zeman cambia il pescare e pensa al debutto di Bovo. Anche in vista del turno infrasettimanale, l'allenatore Biancazzurro a Salerno prepara novità in preallarme. Zampano, Valsania e Palazzi. Anche se quest'ultimo si è fatto male ieri in allenamento. Nevicata killer, leggiamo di spalla. Nevicata killer, l'inchiesta sui due morti va in archivio. Cercavano benzina per far funzionare il generatore. Uccisi dalla tormenta. Vediamo poi la fotonotizia al centro. Trasporti, oggi si fermano i bus. Lo sciopero, rivolta contro la riforma. Sempre in taglio medio leggiamo non chiamate i soccorsi stroncato da un malore. Città Sant'Angelo, il corpo senza vita trovato dopo 15 ore. E poi in basso gli studenti in azienda. Vediamo avanti con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Brucchi resta sindaco finché ce la fa. Il primo cittadino scioglie la riserva sulle dimissioni in question time. La mia città prima di tutto. E poi sotto la testata la guerra del comunale, inteso come teatro. La CS chiude le porte alla Riccitelli, dal comune è partita la diffida. Poi la fotonotizia, giovani energie, lavoro, la Enel assume gli studenti dell'Istituto Alessandrini. Di spalla, lo abbiamo visto poco fa, poggi un bricchio padre e figlio morti nella bufera di neve. Archiviata l'inchiesta. Presunte mazzette negate alla libertà, all'imprenditore fracasse. Poi in basso leggiamo metanodotto SGI bloccato a Bellante. Passa la mozione grillina, rinviata alla concessione del Via Libera. Tradizioni impopolari. La festa dell'Uva di Mosciano festeggia la sessantesima edizione. E poi a Mosciano, sempre, Scuolabus Frate Arcangeli perde la ruota. Possiamo lasciare le prime pagine dei quotidiani locali. Ora uno sguardo alle prime pagine delle testate nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Ecco qui il titolo d'apertura. Conti bloccati. L'ira della Lega. Sequestro milionario Salvini. Un attacco dei magistrati alla democrazia dopo la condanna di Bossi e Belsito per i rimborsi. Il leader del PD. Avete rubato. E poi sotto la testata la PM accusa i carabinieri del caso Consip. Erano degli esagitati. Puntavano a Renzi. Poi ancora scendiamo in basso e andiamo a vedere di spalla le parole del presidente dell'Inps. Boeri. Surreale. Cambiare le pensioni. Poi la fotonotizia che vediamo al centro. Selena è il rene donato alla migliore amica. La pop star racconta il trapianto. È una sorella. La prima pagina di Repubblica con le parole dell'ex premier romano Prodi. lo stoppa lo Iussoli e un calcolo sbagliato per seguire i sondaggi. L'ex premier critica LPD doveva far capire la legge. Senza nuovi cittadini niente soldi per le pensioni. Poi la fotonotizia. Miammar il silenzio di Aung sulla strage. Poi in basso leggiamo chi sono i Rohingya, popolo in fuga che macchia un premio Nobel. Poi ancora per il caso Consip le dichiarazioni del PM Musti al CSM. Scafarto e Ultimo mi dissero vogliamo arrivare fino a Renzi. Poi ancora Banche e Commissione al Via. Il governatore Visco studia il contrattacco a polemiche e accuse. Andiamo a chiudere con la prima pagina della Repubblica. La nera fra TV e giornali. L'autopsia in prima pagina se la cronaca diventa un abuso. Il caso relativo alla giovane Noemi uccisa a specchia. E poi ancora la stampa con il titolo d'apertura. Mafia nella terra dove le donne si ribellano ai boss. Il fenomeno di moglie e figlie in fuga. Don Ciotti una legge per tutelarle. Il racconto di una donna che sfida l'andrangheta. Mi sento invisibile. E poi la fotonotizia. Gioiello Callas. Il ritratto del genio fragile. 40 anni fa moriva a Parigi il soprano che ha segnato l'opera e il costume per sempre. Poi in basso leggiamo Banche. Scontro sulla Commissione. Casini verso la presidenza dell'organismo parlamentare d'inchiesta. Ira dei 5 Stelle. Il PD vuole affossare tutto. La prima pagina del sole 24 ore. CSC rialza il PIL a più 1,5%. Boccia. Ora niente errori. Non ci sono tesorretti da distribuire. Competitività prioritaria. Giovani in fuga all'estero verso un punto di PIL. Perso un punto di PIL. Pardon. Paduan. C'è ancora molto da fare. Poi leggiamo in taglio medio. Vivendi influenziamo team. La Consob francese apre il dossier sul consolidamento del debito. Bolorè oggi notifica al governo italiano la direzione e coordinamento ma non il controllo. avanti ancora con la prima pagina del fatto quotidiano con l'apertura V-Day costi di casta. Il PD con Forza Italia e Alternativa Popolare ha affossato la sua legge Ricchetti che taglia i privilegi. Oggi il giorno del vitalizio per deputati e senatori al primo mandato riceveranno 1000 euro a 65 anni. assegni più alti a 60 anni per chi è al secondo round. E poi ancora in basso leggiamo cliniche horror anziani usati da cavie e protesi di merda. Leggiamo testualmente questo titolo molto forte. Malasanità. Monza arresti per l'indagine disturbo. Nome in codice della mazzetta. E poi leggiamo ancora questo richiamo. Migranti Affari, la Guardia di Finanza contro alcune ONG, donazioni agli armatori e niente sbarchi a Malta. Siamo alla prima pagina del manifesto. Io non ho paura. Apre così il manifesto. La campagna delle destre razziste. I ricatti di Alfano e i timori elettorali del PD rischiano di seppellire lo Iussoli. In gioco i diritti di centinaia di migliaia di cittadini italiani, figli di immigrati. Dopo l'affondo di Del Rio, Gentiloni parla di impegno ma non dice né come né quando. E poi sotto la testata, in fondo al Pozzo, il ragazzino che ha ucciso Noemi, trasferito in una casa protetta. La prima pagina del messaggero, la condanna di Bossi, sbanca la Lega. I PM ottengono il blocco di 48 milioni del carroccio dopo la condanna del Senatur e Belsito. Salvini all'attacco vogliono imbavagliarci. Scontro con Renzi. Fanno la morale ma hanno rubato. Per lo sport sotto la testata Europa League, Lazio esordio che di Inzaghi in Coppa ha battuto il Vitesse 3 a 2. La fotonotizia. Noemi, il papà del killer. Sapevo tutto. L'omicida confessa ma lei voleva uccidere la mia famiglia. Poi di Spalla, la fuga dei giovani ci costa 14 miliardi. Ecco chi va all'estero. Confindustria, ok, la crescita ma allarme lavoro. Il 6% dei laureati trova un posto fuori dall'Italia. Andiamo avanti con la prima pagina del tempo. Due piani dell'Isis per colpire Roma. L'annuncio di più gruppi islamici. Pregheremo Allah in piazza San Pietro. Secondo un informativo una cellula di 5 persone era pronta ad entrare in azione. Tra gli obiettivi il Colosseo e le ferrovie in Siria e la pianificazione degli attentati. E poi la doppia foto in prima pagina. La Lazio sa solo vincere. Riferimento alla vittoria in Olanda di ieri per la prima giornata del girone di Europa League. E poi stadio a Tordivalle. Ecco il progetto finale. In basso perché ho indagato la Boldrini. Parla il procuratore di Cassino Luciano De Manuele che ha aperto un fascicolo per attentato alla carta costituzionale. La prima pagina di Libero al governo meglio bingo bongo. Lo Iussoli esce dalla porta e rientra dalla finestra. Gli italiani temono gli immigrati e non ne vogliono più. Ma per il PD la priorità è dare la cittadinanza agli stranieri. A questo punto conviene consegnare Palazzo Chigi direttamente ai clandestini. Almeno ne guadagniamo in chiarezza. Altri tre casi di africani affetti da malaria. E a Roma la Raggi salva le zanzare, non i malati. Avanti ancora con la prima pagina della verità. Già riesumato lo Iussoli. Il governo insiste, vuole dare la cittadinanza agli stupratori. Con la legge invocata da Gentiloni del Rio e la Boldrini, i violentatori di Rimini sarebbero italiani, abolire subito il permesso umanitario per gli immigrati. Pioggia di mail da parte dei lettori della verità. E poi la fotonotizia. Elezione in Sicilia regala 80 euro ai forestali. Mettiamoci una crocetta sopra. E andiamo avanti con il secolo d'Italia. Il suo titolo d'apertura, lo Iussoli spaventa il PD. Andiamo a chiudere rapidamente con le ultime tre prime pagine. L'avvenire, Iuss culture da fare. Gentiloni si impegna. Si, entro fine autunno. Muro di alternativa popolare. No alla fiducia. Il premier insiste. Nonostante i veti incrociati. Tajani non diventi argomento di campagna elettorale. Gozzi legge al più presto. E poi ancora la fotonotizia. Mancano migliaia di insegnanti. Scuola, ostacoli per i disabili. Vacilla il sostegno. Il secolo XIX. Vediamo l'apertura. Telefoni alta le tariffe a 28 giorni. L'autorità garante per le comunicazioni avvisa le compagnie. Pronte le multe. Le fatture devono essere mensili. E poi chiudiamo con il mattino. Noemi. Le denunce ignorate. Il killer accusato due volte di violenza sulla fidanzata. Orlando. Verifiche in procura. Il ragazzo era già stato sottoposto a tre TSE obbligatori. Dopo la confessione ha rischiato il linciaggio. E poi ancora. Solfatara. La buca nell'area non vietata. Il bambino sopravvissuto, ascoltato dai magistrati. Il bambino che purtroppo ha perso il fratello e i genitori. Torniamo ora ai quotidiani locali. Ripartiamo dal centro. Pagina 2. Ecco qui. Stop al rimboschimento. Ecco il rapporto di 30 pagine che blocca il business milionario. Il servizio foresta della regione denuncia alimenta il racket degli incendi e costa 206 milioni. Il dossier consegnato ad Alfonso è stato determinante per fermare gli appalti d'oro post-roghe. Poi ancora. L'intervento artificiale appare non necessario e non opportuno. Le possibilità di successo sono scarse. Occorrono decine di anni per i vantaggi contro il dissesto idrogeologico. Poi ancora leggiamo i risultati. Anche dopo 20 o 30 anni sono deludenti. Bisogna vietare i finanziamenti e inasprire i vincoli se le fiamme risultano appiccate con il dolo. Poi ancora in basso incendi. Si mobilitano anche gli abruzzesi all'estero. Andiamo a pagina 3. Ecco qui il flop dei boschi artificiali che è raccontato da quattro immagini spesi in 30 anni tanti soldi senza alcun risultato per l'ambiente. La natura a San Giuliano dell'Aquila e Royo ha invece fatto di più in poco tempo. Qui abbiamo i casi San Giuliano dell'Aquila naturale, poi la parte artificiale a Capestrano, poi in basso la parte naturale a Royo e la parte artificiale invece a Cocullo. Il rimboschimento ha 20 anni dall'impianto, come leggiamo nella didascalia. In basso rogo a Fontevetica. Gli indagati si discolpano in 14 nei guai per l'incendio boschivo colposo che ad agosto ha divorato 300 ettari di verde. Proseguiamo, siamo a pagina 11 ora. Credito locale, Ubi Banca Ok alla fusione con la nuova Carichietti, via libera del Consiglio di Sorveglianza all'operazione. L'Istituto rinuncia al nuovo nome Banca Tettina per evitare sovrapposizioni con altri soggetti. Poi ancora studio dei consumatori, Abruzzo tra le prime delle 10 regioni per inflazione e poi bando della regione, acquacoltura 4 milioni per incentivare nuove imprese. Arriviamo alle pagine della cronaca di Pescara. In primo piano, come leggiamo, è l'affare Piscine, manager e politici alla guida del NAIA di Ecco Chi C'è. Nella progetto Sport, nel CDA anche l'assessore Cozzi. Nell'inchiesta sull'ex gestore di Renzo finiscono sotto accusa i subappalti delle associazioni sportive. Poi c'è l'attuale CDA, l'attuale amministratore e ci sono anche le dichiarazioni della nuova gestione Serraiocco. Ora la gestione è passata a noi. Qui vediamo l'attuale CDA della società con il presidente e amministratore Vincenzo Serraiocco, noto commercialista, anche ex assessore al comune di Pescara. Poi gli altri due consiglieri in seno al CDA, Lamberto Calore e anche l'assessore provinciale Walter Cozzi, ex anche assessore comunale al comune di Montesivano, anzi è tuttora assessore ai lavori pubblici del comune di Montesivano. Questo è il nuovo CDA che governa appunto le NAIA. Andiamo avanti, l'impianto apre le porte, si riparte dopo le proteste per l'acqua fredda, due giorni di palestra gratis. In basso le parole del consigliere regionale dei 5 Stelle Pettinari che dice la gestione va revocata, servizi ceduti ad altre società, la regione si muova. Avanti ancora telecamere antifurbetti, l'attivazione slitta ottobre, l'impianto che riprende il transito dei mezzi sul corso Vittoria ancora spento. Blasioli al via il collaudo di questo e altri varchi nelle zone a traffico limitato. Avanti ancora, le prime assegnazioni, gli sfollati rifiutano 10 case perché sono in provincia. Gli inquilini di Rancitelli solo alloggi a Pescara, Pignoli occupiamo l'Ater. Allora di questa vicenda ci siamo occupati ieri nel corso del TG6, vediamo il servizio. L'Ater continua a consegnare appartamenti fuori provincia, le persone giustamente continuano a rifiutare. Offerte di Pianella, Cepagatti, Torre dei Passeri non appartengono a queste persone che rifiutano costantemente. Per cui l'Ater sta spendendo soldi inutilmente per aggiustare questi appartamenti e le persone giustamente rifiutano. La loro appartenenza è Pescara. Ma perché giustamente? Perché ci sono degli appartamenti murati su Pescara. Allora se l'Ater non ha contezza di questa situazione sarò io insieme ad alcuni volontari di queste case, degli evacuati, che dalla prossima settimana faremo questo censimento e lo porteremo all'Ater. Ma non è una colpa dell'Ater. Capiamo che all'Ater ormai sono rimaste poche unità di persone. Ci sono ovviamente mancanza di fondi per cui corro da una parte all'altra sempre in emergenza e probabilmente non hanno un quadro costante della situazione. Mi giungono notizie di case murate e quindi ovviamente a disposizione dell'Ater su ad esempio zona Gescal. Mi giungono notizie ad esempio di case in via Caduti per servizio. Mi giungono notizie di case murate nella zona della Marina Sud e della Marina Nord. Quindi facendo un censimento così approssimativo posso già dire adesso che se si concentrassero ad aggiustare tutti questi appartamenti nel giro di qualche settimana ci sarebbe l'eliminazione di questa problematica. Paga sempre la protezione civile, quindi paghiamo la collettività e quindi queste persone continuano a stare in albergo. Ci sono malati, proprio ieri ho sentito un malato oncologico che è andato in pronto soccorso il cui medici hanno detto con carte scritte che non possono più abitare in quelle condizioni e hanno bisogno di serenità e tranquillità. Bisogna concentrarsi sulle case murate di Pescara. Ce ne sono per tutti. La cronaca sempre sul centro. A pagina 17, cocaina sotto al letto, arrestata insospettabile. A casa della donna, in via lago di Capestrano, sequestrati 800 grammi di droga. Denunciato un disoccupato, nascondeva stupefacente e 10.000 euro in contanti. Avanti ancora, Dio ha dilorito il pensionato che scolpiva i rossoni. Le opere dell'artista di Pianella, esposte anche all'estero. La figlia sognava una mostra permanente. Oggi i funerali. Poi ancora, siamo a Francavilla. Commercio, estate di buoni affari, grazie al caldo e agli eventi. Primo bilancio della stagione che quest'anno ha visto incrementare gli incassi. De Rubeis di Confesercenti, molto bene ad agosto, con una impennata nei negozi del 50%. Poi in taglio medio, a San Giovanni Teatino, marijuana nell'orto denunciato. Un 51enne segnalato per coltivazione e spaccio. Siamo alle pagine di Montesilvano con l'inchiesta della procura Forconi e indagato per odio raziale. Nel Mirino, la protesta del 2 luglio contro il degrado, violenza privata e corteo non autorizzato. Le altre contestazioni, questo è uno scatto del suddetto corteo dello scorso 2 luglio. Poi ci sono le parole dello stesso Forconi. Non nego la mia intransigenza, ma quel giorno non credo di aver commesso reati. Al termine dell'indagine preliminare presenterò una memoria difensiva. Poi in taglio medio, dipendente ASL, cade dalla bici e muore. Antonio Cecchini, 53 anni, ex autista del 118, lavorava al distretto di Montesilvano. Poi in basso, mazzocco, opere anti-erosione. Cozzi, avviati i lavori per potenziare gli argini del fosso contro le esondazioni. Proseguiamo e siamo a Penne. Sgomberate il centro di accoglienza. Camplese e sospiri lanciano l'allarme. La struttura non è idonea per gli immigrati. Violate le norme igieniche. Poi leggiamo anche a Popoli. Addio a Pizzuti, l'assistente dei disabili. Popoli e bussi in lutto per la morte improvvisa delle 45enne a causa di un malore. Oggi i suoi funerali. Pagina di Chieti, Lanciano, Università Telematica, Polo Tecnologico con 6 facoltà e 29 corsi. Firmata la convenzione con Uninet 1, unica sede in Abruzzo e Molise. Pupillo, vittoria per tutto il comprensorio. E poi a Chieti l'addio al barista d'Urbano. Un esempio per la città. In basso, sempre a Chieti, ZTL, via i controlli in centro, sperimentazione di 30 giorni. E a Vasto, per la cronaca, giostra bruciata sul lungomare, rogo doloso. A Vasto, caccia al piromane, con cappuccio visto vicino al Luna Park, chiuso. E poi ancora, siamo in provincia dell'Aquila, Sulmona, violenza in famiglia, vuole uccidere la moglie col macete. Polizia, arresto albanese dopo la denuncia della donna. L'uomo ha inviato un video nel quale la minacciava di morte. Vediamo il servizio. Da Sulmona una brutta storia di maltrattamenti in famiglia e minacce. Però la Polizia di Stato ha posto fine a tutte queste violenze, arrestando un 43enne albanese. Nelle prime ore di questa mattina, personale della Polizia di Stato ha infatti eseguito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne albanese, residente a Reggio Emilia, pregiudicato per reati contro la persona, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della moglie e delle due figlie minorenni. La misura è stata messa dal GIP presso il Tribunale di Sulmona, su richiesta del Procuratore della Repubblica, il dottor Bellelli. La donna, il primo settembre scorso, si è presentata presso il commissariato di Sulmona, rappresentando di temere per la propria incolumità e per quella delle figlie di 13 e 14 anni, dopo anni di violenze subite dal marito. Per sfuggire a questa situazione le tre, dopo un breve soggiorno in Albania nel mese di agosto, durante il quale la donna, nel timore di essere raggiunta dal coniuge, aveva chiesto e ottenuto un provvedimento restrittivo nei suoi confronti da parte della magistratura albanese, non erano tornate a Reggio Emilia, ma si erano rifugiate presso dei parenti della donna Sulmona. L'uomo, venuto a conoscenza di ciò, le aveva raggiunte minacciando di ucciderle con un macete, qualora non lo avessero seguito a Reggio Emilia. L'episodio avveniva alla presenza dei familiari della donna. Nei giorni successivi alla denuncia, i familiari della donna hanno riferito di aver saputo da conoscenti residenti in Albania che l'uomo si stava procurando una pistola per uccidere la moglie. Da ultimo, la sorella della donna aveva anche ricevuto sul proprio contatto WhatsApp un video inviato dal cognato in cui lo stesso si procurava con un coltello delle incisioni su un braccio, minacciando apertamente di morte la moglie. Grazie al tempestivo intervento del personale del commissariato di Sulmona e dell'autorità giudiziaria che in tempi rapidissimi ha emesso il provvedimento cautelare più grave, quello della custodia in carcere, si è probabilmente scongiurata l'ennesima tragedia dal momento che questa mattina il personale della squadra mobile della questura di Reggio Emilia, che è stata delegata ad eseguire il provvedimento, ha trovato l'uomo in procinto di partire per Sulmona con all'interno dell'autovettura, oltre ai bagagli, un grosso coltello a scatto. Siamo sempre sulla pagina aquiliana del centro, carrozzella negata al malato di sclerosia ad Avezzano, parla la moglie, per la legge va cambiata ogni cinque anni, il manager dell'ASL replica oggi la consegna. La pagina di Teramo con l'annuncio di ieri in consiglio durante il question time, Brucchi non si dimette, resto sindaco, niente candidatura alle politiche, viene prima la città, l'opposizione rimane perché non ha il posto sicuro in lista. Poi in taglio medio a Cellino l'ITV chiude i battenti, in arrivo più di 90 licenziamenti. E poi per, sempre per la cronaca, ma giudiziaria in basso, non posso giudicare la Mastro Pietro via al processo per gli appalti sui rifiuti a Roseto, giudice incompatibile perché si è già espresso sull'inchiesta Castrum. È il momento di fermarci, pubblicità poi la seconda parte di Mattino 6, prima della pubblicità le nostre previsioni meteo. Di nuovo buongiorno, la seconda parte di Mattino 6 riprende con le pagine del messaggero Abruzzo. I nodi dell'economia, vietato farsi illusioni, dal commercio un freno alla ripresa. Piccole aziende, negozi e servizi si dibattono ancora nella crisi dopo i dati Istat, quelli di CNA e CISL, bene l'industria, poi le costruzioni. Ancora l'agricoltura tra i settori in difficoltà anche a seguito delle calamità naturali. E poi ancora, sempre nella stessa pagina, riassetto dei trasporti, oggi sciopero dei bus contro il piano regionale. E andiamo avanti con le pagine di Pescara. Alessandrini, il piano dei 20 mesi, sabato 23 il conclave con giunta, dirigenti e maggioranza per mettere a punto la lista degli obiettivi di fine mandato. Bando per le aree di risulta e servizi su base metropolitana, le idee forti, ma si deciderà anche a quali progetti rinunciare. Una full immersion di un solo giorno all'aurum, tempi di lavoro serrati, pranzo al sacco e zero mondanità. E poi ancora il sindaco punta a recuperare il rapporto di fiducia con la città, esclusi altri aggiustamenti dopo il rimpasto. In basso leggiamo il traffico scorre grazie alle app, in rassegna i progetti vincenti. Mezzi alternativi, carpooling, sconti ai cittadini virtuosi, agli stati generali, la segna delle buone pratiche. Restando sempre sulle pagine di Pescara, 5.000 martiri per la libertà. Pescara ricorda il secondo bombardamento alleato del 43, cerimonia al Sacrario delle Vittime, incontro con gli studenti. Un progetto europeo mira a formare la consapevolezza delle giovani generazioni. Pisa, città gemella nel dolore. La guerra di liberazione comportò anche la distruzione del 70% degli edifici. Le nostre telecamere erano presenti ieri alla cerimonia. Vediamo. Che è giusto che la memoria venga conservata e venga portata avanti nelle scuole e in raccordo con l'impegno delle istituzioni. Per questo il Comune, l'amministrazione e la Presidenza del Consiglio ha voluto promuovere questa giornata della memoria dei fatti del 43, invitando le scuole presso la sala consigliare e collegandosi anche via Skype con il Comune di Pisa, che in questa giornata della memoria diventa partner di Pescara in quanto le due città furono bombardate nelle stesse giornate del 31 agosto e del 14 settembre. E quindi questo progetto memoria partirà in entrambe le città parallelamente. Proprio qualche settimana fa c'era stata una visita del sindaco Alessandrini a Pisa proprio per siglare questo gemellaggio? Sì, lì ci fu la prima tappa di questo gemellaggio, il 31 agosto, quindi data del primo bombardamento. Oggi 14 agosto, data del secondo bombardamento, siamo qui nella sala consigliare per ricordare questi tristi episodi e far sì che su questi le coscienze civili, soprattutto nei ragazzi, abbiano i valori della pace e della crescita tra le popolazioni. Sempre sulla pagina di Pescara del messaggero, così hanno spolpato l'enaia di sottoaccusa di Renzo e altri tre. Chiesto il processo per l'ex gestore dell'impianto, il fratello e gli amministratori di due società, 800 mila euro finiti nel nulla, il caso emblematico del bar usato, secondo il PM, per dissipare l'attivo. Andiamo ora, sempre sulla pagina di Pescara, ma siamo in provincia, città Sant'Angelo. Non chiamate l'ambulanza e muore. Malore fatale nella notte per un ex autista di mezzi di soccorso. Beveva e non voleva mostrarsi in cattivo stato ai vecchi colleghi. Il corpo di Antonio Cecchini, 53 anni, ritrovato ieri alle 13 dei Carabinieri, distanza di ore dal mancato allarme. Poi ancora, leggiamo in basso, dopo anni di attività nel volontariato, stava attraversando un periodo difficile, lo sconcerto dei conoscenti. Sempre per la cronaca stretta della polizia sullo spaccio, sequestri a raffiche, un chilo di sostanze varie nella rete, al termine di un'operazione a tappeto, ordinata dal questore. Ora siamo nelle pagine Aquilane. Cialente, ritorno con il botto. Voglio la segreteria del PD. L'ex primo cittadino si autocandida. 18 mesi per uscire dalla crisi. La proposta è riapertura dei circoli, nuovi tesseramenti e una giunta ombra. Così, perdon, caso di Benedetto, usciamo da una disfatta che ritengo ingiustificabile. Avanti ancora, sempre a L'Aquila, droga, liti, violenze. L'edificio di via Savini diventa una bomba. Problemi per la presenza di un gruppo di richiedenti asilo. Già numerosi gli interventi effettuati dalle forze dell'ordine. In basso esercito, cambio della guardia al vertice del comando regionale. Proseguiamo con la pagina della Marsica e della Valle Peligna. Nuova clinica INI è subito polemica. La struttura con sede a Canistro conferma l'insediamento. Non si tratta soltanto di un maxiambulatorio di ortopedia. La di Lorenzo prende le distanze e annuncia battaglia. La sanità è una cosa seria. Oggi è fuori controllo. Il direttore Daniela Stati. Non abbiamo nulla a che vedere con la nuova Salus di Trasacco. Siamo ora alle pagine di Chieti. Comune, nuove assunzioni e via i dipendenti fannulloni. Di primo incontra i sindacati e presenta il piano per riorganizzare tutti gli uffici. I settori passeranno da 6 a 5. Commercio inglobato all'urbanistica. Il sindaco va giù duro. Chi non lavora va mandato a casa da isolare le mele marce. Intanto lunedì parte la sperimentazione delle zone a traffico limitato alla Civitella e in via dell'Ollis. Di spalla leggiamo anche laboratorio analisi. Blitz del NAS. Situazione critica. Ieri l'ispezione dei carabinieri in ospedale. Numerose carenze a livello igienico e strutturale. E poi ancora in basso leggiamo. Ateneo si accredita in regione e dal MIUR arrivano più fondi. Siamo a Vasto. Porto serve una diga foranea. L'intervento dello storico industriale Vastese. Remo Salvatorelli. Merci raddoppiate ma il boom sfugge alla politica regionale. L'opera va allungata di 500 metri. Così si potrebbe puntare all'attracco di mercantili di 12.000 tonnellate a punta penna. Con i lavori di adeguamento i benefici ricadrebbero sull'economia cittadina e i giovani in particolare. E poi ancora è arrivato il Targa System. Qui siamo a Lanciano. È arrivato il Targa System. Fioccano multe e sequestri. Così con lo strumento scatteranno contravvenzioni pure per i divieti di sosta e le altre infrazioni. Siamo alla pagina di Teramo. Brucchi. Non mi dimetto per il bene della mia città. Il sindaco resterà al suo posto anche se la sua lista perde Milton Di Sabatino. Per me la fine è quella del mandato. Ci sono troppi impegni da completare. Il primo cittadino scioglie la riserva pomante in calza. Lui rimane perché non può andare in Parlamento. E poi ancora di spalla teatro si va alla guerra. Il comune diffida la ACS sulla costa a Giulianova. Poveri e disabili. Niente numero legale. Bagarre in consiglio con parte dei consiglieri più di fuori dall'aula. Il sindaco accusa atteggiamento irresponsabile sul sociale. I Democrat avevamo chiesto più tempo per studiare l'atto. Subito un vertice di maggioranza. Oggi un nuovo tentativo. Momenti di tensione quando un addetto alla pulizia dei parchi è inveito contro chi non aveva votato il suo operato. E lasciamo il messaggero Abruzzo. Passiamo ora alla città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere le pagine interne. E ovviamente ripartiamo da quella che è la notizia che è arrivata ieri dal Consiglio Comunale di Teramo. L'abbiamo già visto sulle altre testate. Brucchi resterà sindaco finché ce la fa. Al question time il primo cittadino scioglie la riserva sulle dimissioni in la mia città prima di tutto. Lo ostalo resta quello di sempre. Non c'è più una maggioranza con cui governare la città. Si apre una nuova fase per l'amministrazione. Andiamo avanti. Siamo alla cronaca. Morirono nella bufera archiviata l'inchiesta. Il giudice scrive la parola fine sul caso di Claudio e Mattia Marinelli. Vittime della neve a Poggio Umbricchio. E poi ancora ACS ignora la stagione della Riccitelli. Tre sovrapposizioni al teatro comunale nei rispettivi cartelloni già ufficializzati. Ieri c'è stata la presentazione della stagione della ACS. Si è parlato anche della polemica del teatro con la Riccitelli. Allora vediamo il servizio della nostra redazione teramana. Abruzzo Circuito Spettacolo, unico gestore del teatro comunale di Teramo, ha presentato la sua programmazione 2017-2018 per prosa, musica e danza. La CS si propone come protagonista assoluto della vita culturale e della rinascita cittadina, con un'ampia offerta variegata e di qualità. E apre la campagna abbonamenti il 25 settembre, addirittura tre stagioni. Ma non solo, queste sono le prime tre grandi stagioni del teatro comunale di Teramo. Quindi la stagione di prosa che avevamo già preannunciato ad aprile, quella di danza e musica, che è veramente di altissimo spessore artistico, oltre che molto voluminosa proprio per la mole di artisti che vede in scena, quindi grandi orchestre, cantanti, solisti di fama internazionale. E poi le domenicali per famiglie, quindi sono degli spettacoli pensati proprio per bambini accompagnati da famiglie, che verranno svolti appunto la domenica a teatro. E a queste naturalmente seguiranno tante altre, potrei dirvi la lirica, sarà la prossima che annunceremo, ma poi non abbandoniamo sicuramente il teatro sperimentale, la danza emergente e così via. Però diciamo che questo sì, è un buon inizio con tre grandi stagioni. Un bel programma, ma inutile far finta di niente, c'è una guerra che si sta combattendo per la concomitante stagione di prosa proposta dalla Riccitelli, che usufruirebbe del teatro comunale nelle giornate gratuite concesse al Comune. Alcune di queste date però coincidono con quelle di ACS. Qualche data coincide con quella presentata e proposta dalla Riccitelli? Ecco, cosa avverrà in questi giorni? Il problema è che la programmazione a cui dobbiamo dare seguito proprio da progetto vincitore di un bando pubblico prevede 116 spettacoli. Per cui è chiaro che le date devono essere concordate con il gestore che da tempo ha fatto questa programmazione, quindi di coincidenza ne vedremo tantissime. Noi restiamo in attesa di una risposta da parte del sindaco o della Riccitelli, che sia, relativamente ai cambi di dati che loro ci vogliono proporre in armonia con quella che è la nostra programmazione. Diceva Brecht, tante arti concorrono all'arte più bella che quella di vivere. Il quadro poi si completa, come leggiamo a pagina 7 della città, con questo fatto, cioè che il Comune di Teramo ha diffidato la ACS a rispettare la Riccitelli. Proseguiamo, sempre a Teramo, l'80% dei diplomati ITS trova subito lavoro. Il presidente di Giosia e l'assessore Sclocco presentano il nuovo bando del trienio 2017-2019. Giovani energie teramane assunte all'Enel, gli studenti dell'Istituto Alessandrini Marino alterneranno la scuola e la formazione teorica e pratica in e-distribuzione. Proseguiamo con le notizie dalla provincia. Controlli sulla caccia vietati ai cacciatori. L'Associazione Giustizia e Ambiente chiede l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. L'Abruzzo ha una programmazione che risale a 25 anni fa, dice l'assessore regionale Pepe, pertanto inadeguata a rispondere alle odierne esigenze di una caccia che prevede la programmazione dei prelievi sulla base delle consistenze faunistiche. E poi ancora a Bellante il nuovo metanodotto è bloccato. Il Consiglio Comunale approva la proposta dei 5 Stelle e rinviata la decisione per la questione degli indennizzi. La questione metanodotto è tornata sul tavolo del Consiglio solo mercoledì a lavori iniziati e solo per l'approvazione della Convenzione. Avanti ancora siamo a Martinsicuro. La cronaca perseguita la famiglia per soldi. Arrestato nonostante il divieto prova a sfondare la porta e distrugge una macchina. Il 49enne è stato sorpreso dai militari mentre beveva tranquillamente una bibita al bar. E a Giulianova fuori programma in Consiglio Comunale, intervento a sorpresa di Silvana Pizzi, la custode del Parco Franchi. E' stato il sindaco Mastro Mauro a tranquillizzare la donna precaria che reclamava i diritti. A Roseto parcheggi amari, sosta privilegiata per il sindaco e assessori. Polemiche a Roseto per gli stagli riservati mentre i cittadini sono costretti a pagare le strisce blu. Interrogazione presentata per fare luce e capire in base a quale normativa i membri della Giunta si siano riservati diversi posti auto. E poi le parole di Nunez Marcone. Innanzitutto una questione di buon senso e di rispetto verso i cittadini rosetani. Avanti ancora, siamo alla festa a Mosciano, sessantesimo anniversario per la festa dell'Uva. Il prossimo weekend a Mosciano, quattro giorni per celebrare la sagra più antica della provincia. 1924, la festa dell'Uva nasce sotto il fascismo per esaltare lo spirito popolare del mondo agricolo, innestandosi su tradizioni millenarie. E siamo allo sport con le parole del difensore del Teramo, Cristian Ventola. L'arbitro ci ha fatto perdere la gara. Ecco qui le parole del giovane difensore arrivato in prestito dal Pescara. Il difensore non si nasconde, solamente in quel modo il Vicenza poteva batterci. E domenica c'è il Ravenna, formazione quasi fatta, senza l'infortunato Amadio e lo squalificato Graziano. Asta dovrebbe confermare quasi interamente l'undici di domenica scorsa. Il dubbio è sulla fascia mancina di difesa. Sales o Pietrantonio. E poi nuova consapevolezza, la gara di Vicenza, nonostante la sconfitta, ha restituito al Teramo una rinnovata consapevolezza di sé. Teramo che ieri è tornato a incontrare il Vescovo in Curia, riprendendo abitudini negli anni passati. Incontro in Curia per il Teramo con Monsignor Michele Seccia, la squadra biancorossa ricevuta dal Vescovo alla Diocesi di Teramo Atri prima della gara interna contro il Ravenna. Prima di tornare a centro e messaggero, vediamo le pagine dei quotidiani sportivi, i tre quotidiani sportivi principali. In primo piano le tre vittorie delle italiane, Milan-Atalanta e Lazio, ieri in Europa League. Basti vedere la prima della Gazzetta dello Sport, la prima pagina. Eccola qui, incantati da Andrè e Silva, poi stregati dalla Dea e conquistati dalla Lazio. Questi i tre titoli d'apertura. C'è la Noglu Geniale, il portoghese Letale, goleata del nuovo Milan a Vienna 5-1. Spettacolo a Reggio Emilia, Masiello, il Papo e Cristante. A segno nel primo tempo, l'Atalanta torna a splendere, travolge 3-0 Leverton e Runei e poi doppia rimonta in casa del Vitesse. Decisivo l'ingresso di Immobile, che segna il 2-2, di Murge, il 3-2 definitivo. E poi di spalla leggiamo Pazzisco, il Real fissa la clausola per Isco, appunto 700 milioni. Vediamo ora la prima pagina del Corriere dello Sport, che cambia rispetto alla Gazzetta, cambia l'apertura, salviamo i giovani italiani, i gioielli azzurri fuori nell'anno del Mondiale, con fari puntati su Bernardeschi, Rugani, Pellegrini, Gagliardini, tutti in difficoltà nelle rispettive squadre. E poi l'Europa League sotto la testata, India Volati, Andresilva, Tris d'autore, Ciananoglu, Incanta, Montella, Spirito, Giusto, una Lazio di Leoni, rimonta Super, 2-3 col Vitesse, che Atalanta, ciao Everton, Papu, meglio di Runei, 3-0. E poi in basso, Amsic, nuovo Rebus di Sarri, in casa Napoli, serve subito la svolta. L'apertura di tutto sport, pensaci tu, la Juve con Allegri è abituata alle partenze difficili, ma alla fine il tecnico è sempre riuscito a trovare la soluzione giusta. E poi Eurovisioni sotto la testata, con le vittorie di Milan, Lazio e Atalanta. Toro c'è un premio Champions nei contratti. E ora torniamo ai quotidiani locali, lo facciamo con il centro. Ecco qui, il Pescara prepara la trasferta di domani, ore 15, contro la Sernitana. Tra poco, alle 9.30, ci sarà la seduta di rifinitura al Poggio. Difesa in crisi, il Pescara si affida a Bovo. Troppi otto gol subiti in tre gale. Solo una volta in carriera Zeman aveva avuto un rendimento peggiore, a Napoli nel 2000-2001. E poi, leggiamo ancora, l'alto numero di reti incassate spinge il tecnico Boemo a rivedere l'assetto. L'ex difensore del Torino potrebbe recitare il ruolo di guida della retroguardia bianca-azzurra. Reduce da un lungo stop, il 34enne romano ha vissuto le stagioni migliori con Deglio Rossi, allievo del tecnico di Praga e l'attuale CT della nazionale Ventura. E poi, Valzano e Valzania scalpitano Palazzi infortunato. Il terzino e la mezzala in lizza per una maglia. Sernitana out Rosina. In dubbio, l'ex lancianese Gatto. Avanti ancora, serie C, Ventola carica il Teramo, il Vescovo seccia, benedice la squadra. Il terzino vuole riscattare il K.O. di Vicenza. Ora vinciamo. Monsignor riceve i bianco-rossi e il patron Campitelli. E per la serie D, Fofanà, la stella del Francavilla punta alla C. L'ex attaccante del Lanciano. Qui per la promozione, mi dispiace che i frentani siano in prima categoria. E poi, per il basket, Roseto, niente, nuovi soci, fumata nera per gli Sharks. Lunga riunione tra gli azionisti di maggioranza, l'associazione I Love Roseto, Cimorosi e Cianchette rimangono al timone del club. Domani l'amichevole al Latina. E per il rugby, l'Aquila lavora in corso e la squadra rinuncia al Memorial Sebastiani. Vediamo ora il messaggero Pescara. Prove di turnover. Dunque anche sul messaggero si rilancia l'idea di cambiamenti, che dovrebbe varare Zeman per la partita di domani. Il calendario propone tre partite nel giro di sette giorni e Zeman pensa di presentare parecchie novità a Salerno. Possibile debutto in difesa di Bovo. Torna anche Zampano. A centrocampo il tecnico pensa di inserire Valsania e Palazzi. E poi ancora assente per infortunio Mancuso. L'attaccante potrebbe tornare con la Cremonese. Invece tempi lunghi di recupero per Lattelat. In basso per la Serie C. Sales o Pietrantonio. Unico dubbio per il Teramo. Asta è intenzionato a cambiare il meno possibile in vista del debutto casalingo contro il Ravenna. Andiamo a chiudere con quest'ultima pagina. Per la palla a mano riparte l'avventura per la Lions Teramo. Domani inizia il campionato di A2 con la squadra Teramana guidata da Fonti. Impegnata in trasferta contro il Romagna. Dopo aver vinto a mani basse il campionato. La formazione bianco-rossa ci riprova. E poi una serie di titoli per la Serie D. L'Aquila, riunione dei garanti. C'è in gioco il futuro. Sul fronte Vastese il monito di Colavitto. Vastese, occhi aperti. Sul fronte Pineto, domenica. Sarà già una svolta per il Pineto che ha il derby proprio contro la Vastese. In basso il DS Iacovitti. L'Avezzano cresce bene. Ora i tre punti. E poi rugby e atletica. Un gruppo di dieci imprenditori potrebbe sostenere i neroverdi. Sul fronte l'Aquila rugby. E per l'atletica, per Isabella Di Benedetto. Record personale nel martello. Chiudiamo qui questa rassegna stampa di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con il nostro OTG. Alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Invece domani mattina alle 8 torna mattino 6 la nostra rassegna stampa. Io ringrazio Silvia Gentile in regia. E ringrazio voi per la cortese. Attenzione, buona giornata. Grazie a tutti.